I dati in nostro possesso sono riferiti al numero di persone che accedono ai servizi per il disturbo di gioco d'azzardo non rendono la situazione reale, sono 435 i soggetti in carico evidentemente il numero di persone interessate a questo problema è molto più rilevante. E' questo quanto emerge dal focus sul disturbo da gioco d'azzardo effettuato dall'osservatorio sulle dipendenze dell'ATS di Brescia. Dall'analisi risulta che una delle fasce d'età più colpite da quello che non è un vizio bensì una vera e propria patologia è quella degli anziani. Questa popolazione di persone con disturbo da gioco d'azzardo vi sono sicuramente molte persone anziane, pensionati che vivono magari in una condizione anche di isolamento sociale e che di fatto nel tempo inconsapevolmente maturano una vera e propria dipendenza. Per questo ATS sta cercando di tendere la mano a queste persone in particolar modo con la sottoscrizione di un accordo operativo per realizzare interventi di contrasto. Per questo motivo abbiamo la necessità di far emergere questo fenomeno e per far questo stiamo stabilendo una serie di rapporti sia con soggetti del contesto economico che sociale. L'ultimo accordo fatto è con i sindacati pensionati CGL e Cisle Will che hanno dato disponibilità a garantire informazione ai loro iscritti rispetto a questo problema favorendo una precoce individuazione di situazioni a rischio affinché possano poi essere orientate ai servizi per le dipendenze. Nonostante il disturbo da gioco d'azzardo si è riconosciuto a tutti i livelli, esso è ancora oggetto di stigma, pregiudizio e sottovalutazione. Stiamo parlando di numerose opportunità che oggi vengono offerte anche attraverso servizi online ma semplicemente attraverso i grattevinci che si possono acquistare in numerosissimi punti di distribuzione e quindi alla portata veramente di tutti. Il rischio è praticamente dietro l'angolo. È sufficiente entrare in una tabaccheria, in un bar e già lì si possono cominciare a registrare i segni di una dipendenza che va maturando. Infine, ma non per minore importanza, c'è un'altra problematica che emerge in maniera forte, la dipendenza da dispositivi elettronici. È sempre più precoce la consegna di un dispositivo elettronico ad una persona. In sostanza, già nella scuola primaria noi vediamo bambini di 8-9 anni con un telefono cellulare. L'obiettivo della famiglia è quello di creare un elemento di sicurezza, di collegamento con il bambino, ma in realtà quel dispositivo apre a possibilità rilevanti per quanto riguarda un uso eccessivo e incontrollato, distogliendo il bambino dal contesto reale e da una relazione sana e interpersonale. Grazie a tutti.